Ho il piacere, l'onore e l'onere come si suol dire di far parte della commissione del premio domotica di quest'anno. Il premio domotica all'interno della settimana della bioarchitettura viene assegnato da sei edizioni, siamo arrivati alla sesta edizione e è un premio che viene assegnato a progettisti che si siano distinti con progetti nell'ambito della domotica ma anche della sostenibilità energetica. Una delle cose più importanti che si possono dire su questo premio è senz'altro il raggiungimento che si è ottenuto dell'integrazione fra la sostenibilità energetica e appunto la domotica. Nelle prime edizioni assistevamo e valutavamo dei progetti che erano essenzialmente incentrati sugli aspetti domotici, esclusivamente di controllo degli impianti, di tutto quello che contribuisce a creare benessere e comfort all'interno dell'abitazione o di un'azienda ma con qualche riscontro in meno su quella che era la vera efficienza energetica. Adesso con l'evoluzione di questo premio si è capito che non si poteva ragionare su percorsi separati. L'integrazione è stata raggiunta con la possibilità di avere dei progetti che siano contemporaneamente progetti di elevato grado di efficienza energetica, in parole povere fanno risparmiare il cittadino, l'azienda, l'industria e contemporaneamente abbiano degli aspetti di controllistica, appunto di domotica che permettano di ottimizzare questo concetto dell'efficienza. Con la domotica si ottiene un livello di efficienza e risparmio che difficilmente si potrebbe ottenere con una gestione manuale. Nello stesso tempo applicare la domotica a livello di overkill, cioè di esagerare nel controllare quello che è piccolo o irrilevante, diventa un qualcosa di non necessario e addirittura controproducente. La vera integrazione si raggiunge quando una casa è già progettata dal punto di vista involucro e impianti in maniera assolutamente efficiente e contemporaneamente ha una controllistica automatizzata dei sistemi domotici che permettono di gestire l'impiantistica nella maniera più efficace in assoluto. Questo è stato raggiunto da progetti che oggi vengono premiati ed è veramente un piacere vedere l'evoluzione di di questi sistemi e vedere i risultati ottenuti.